Cosa ha detto Diego? Vostro marito si esprime poco quando parla e quando tace. E vi assicuro che la vista di queste immagini non l'ha turbato assolutamente. Non è una buona idea che tu le veda. Ci sono le fotografie del cadavere della moglie di Adrian Vera. Eravate stata avvertita di non guardarle. È lei. Chi? La donna nella foto di nozze di Diego. Quella che ho visto quando sono stata sequestrata. Ma allora... Diego è Adrian Vera Selande. Ora ti sono più vicino, Adrian. Ma dove? Grazie a tutti.